I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e a danno carattere puramente educativo non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretto e indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 79.27% e il 73.32% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera con me ci sarà lo sviluppo del programmatore del termometro Forex, parleremo appunto dell'indicatore termometro Forex. Prima di fare questo farò una breve presentazione del broker, quindi con me ci sarà Salvatore, tu mi senti giusto? Sì, ti sento, saluto tutti. Buonasera a tutti. Io sono Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di TICMIL. Allora, quali sono le caratteristiche principali di TICMIL? È un broker non dealing desk con commissione tra le più basse del settore e spread a partire da zero. Regolamentazione FCA UK e fondi costituiti in conti segregati e separati dalla società e sono assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui prefitti, sono benvenuti tutti gli expert advisor e le strategie, non ci sono re-quote e grazie alla velocità di esecuzione, che è una media di 0,1 secondo garantita dagli oltre 10 server sparsi per il globo, c'è la possibilità di ricevere ovviamente l'ordine anche al miglior prezzo e quindi di avere anche gli slippage positivi oltre a quelli negativi. Abbiamo un'ampia gamma di mercati tra cui appunto il Forex, CFD sugli indici con il Putsimib, Materie Prima, Metalli Preziosi e il Bitcoin. Strumenti di trading come AutoChartist, la VPS, il One Click Trading e la demo illimitata. Non abbiamo costi su prelevi e depositi, abbiamo un interessante programma partner di TICMIL che potete visualizzare sul nostro sito e poi siamo tra i pochi broker ad offrire anche un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain grazie a degli accordi che abbiamo fatto con commercialisti esterni, quindi uno è Marco D'Andrea, quindi avete l'email qui nella slide e l'altro è di una società su cui potete poi andare a controllare sul sito di dichiarativo.com. Questa è la mappa dei nostri server sparsi per il globo, questa è una mappa aggiornata, quindi abbiamo aggiunto l'ultimo server che abbiamo spostato da New York sul Nord Virginia e poi ci sono ovviamente quelli più importanti come quello di Londra, Tokyo e poi i vari server di backup. Questa è un po' una slide che racchiude gli spread delle commissioni di TICMIL a confronto con altri broker, quindi questi sono dati di un fornitore esterno come MyFXbook e quindi potrete poi controllare voi stessi e vedrete che comunque TICMIL è sempre tra i migliori broker con l'offerta spread delle commissioni, offerta che è migliorata notevolmente grazie all'introduzione, all'abbassamento della commissione sui conti VIP portata a un dollaro per ogni 100.000 negoziati, quindi significa che su un lotto di euro-dollaro per aprire e chiudere una posizione spendete circa 2 dollari e 30 centesimi al cambio attuale, quindi veramente molto molto competitivo, attualmente è quasi impossibile trovare le commissioni così basse, questo ovviamente dovrete poi aggiungere lo spread, ma lo spread per chi già opera comunque con TICMIL avrà sicuramente constatato che è sempre molto molto basso e parte da zero. Allora ho finito questa breve presentazione del broker, vi rimando poi ovviamente al nostro sito www.ticmil.com e quale sarà il programma di questo webinar appunto sul termometro Forex, andremo a vedere come installarlo sulla MetaTrader 4, da dove poi nasce l'idea e la logica che c'è dietro al termometro Forex, come leggere le indicazioni fornite, come lavorarlo in breakout, in swing e in contrarian, lavorarlo poi anche attraverso supporti e resistenze ricavate in modo oggettivo, come avere un risk reward sempre a favore e vedremo insieme a delle statistiche ricavate da MyFXbook se diciamo è meglio lavorarlo in trend o in contrarian e poi ci sarà lo spazio dedicato alle domande verso la fine. In un'oretta dovremo comunque finire il webinar, adesso ci trasferiamo sulla piattaforma e la prima cosa che facciamo andiamo ad installare l'indicatore. Allora dovete solo darmi un secondo perché io ho una decina di piattaforme, quindi devo capire dove l'ho messo. Ok, tu Salvatore seguimi, se dovessi puoi dire qualcosa che possa essere corretta mi correggi, perché dovete sapere che Salvatore è il programmatore che ha trasformato l'idea del termometro Forex in un programma. Allora, intanto prendiamo un grafico pulito. Allora, ovviamente io adesso già l'ho installato nella piattaforma, credo che sappiate un po' tutti come si installa un indicatore esterno sulla M3, sulla MetaTrader 4, ve lo faccio vedere rapidamente su file apri scheda data, poi da MQL4 nella sezione indicatore andate ad aggiungere l'indicatore, in questo caso il termometro Forex, quindi basta poi trascinarlo, copiare, incollarlo in questa cartella, chiudere, potete riavviare la piattaforma oppure cliccare su aggiorna. Una volta scaricato il termometro Forex, poi bisogna ovviamente trascinarlo sul grafico, e qui ovviamente poi c'è il disclaimer, con l'autore che è Salvatore, e ci sono i valori da impostare. Il periodo, potete scegliere il periodo dell'indicatore, noi l'abbiamo creato su un periodo di 2, quindi di default, potete lasciarlo anche di default, la candela di riferimento, non mi ricordo sinceramente a cosa fa riferimento, però... Posso intervenire, ma sostanzialmente quando andiamo a impostare la candela di riferimento 1, significa che noi andiamo a fare l'algoritmo, praticamente che c'è sotto, valuta l'ultima candela definita, quindi l'ultima candela chiusa. Di default è impostato su 1, perché poi è quello che ci interessa di più, però qualora uno magari si è perso un segnale in precedenza, voleva vedere, non lo so, nella candela immediatamente precedente, oppure ancora più indietro nello storico, basta aumentare questo valore, mettere, che ne so, 5, significa che voglio vedere come si trova il termometro Forex 5 candele fa. Questo è un po' il concetto. Ah, ottimo, ok, quindi è una sorta di backtest, no? Esatto, per vedere un po' nello storico i segnali che sono stati già forniti in precedenza. Ah, perfetto. Perché uno lo lascia a uno, perché interessa per il trading. Esatto, io sinceramente non l'ho mai spostato, quindi ho lasciato sempre i valori di default, e quindi questo Salvatore ci ha spiegato cosa significa. Se vuoi puoi procedere anche tu con gli altri, penso che sicuramente sai meglio di me. Sì, le altre variabili esterne sono abbastanza intuitive. C'è l'alert, che è un campo opzionabile alternativamente, true o false, attivandolo quando il termometro Forex ci dà qualunque segnalazione, ci appare un alert che ci avvisa. Il layout, questo l'ho creato perché molti schemi, soprattutto quelli grandi o con risoluzione maggiore, probabilmente hanno la necessità di visionarlo questo termometro, poi facciamo vedere lo specchietto, come si costruisce, sia con lo schema orizzontale o eventualmente opzionalmente in verticale. E questo poi è a discrezione del trader. Il template è molto importante perché poi faremo vedere, se ci sono dei bottoni sotto questo termometro Forex, cliccando i quali si apre il grafico relativo. Possiamo impostare un template nostro di riferimento e quando cliccheremo su quel bottone, il grafico verrà aperto direttamente con quel template. Adesso di default è proprio il template di default, ma si può personalizzare. Poi magari facciamo vedere come. Sì, questo poi lo faccio vedere tra poco. Ok, quindi una volta impostate le variabili, quindi che si possono lasciare comunque di default, poi bisogna solo decidere se si vuole l'alert oppure no l'alert, quindi quando c'è un segnale vi appare appunto l'alert e quindi poi cliccando su ok appare questa tabella. Ovviamente non vi spaventate, non significa che il termometro non funziona, ma solo che non ha abbastanza storico, quindi per visualizzare l'intero termometro Forex basta semplicemente passare di time frame in time frame, questo va fatto solo la prima volta. Sì, perché è necessario scaricare uno storico abbondante sui vari cross. Questo bisogna farlo, diciamo, soltanto la prima volta, quindi in modo tale che poi compagnano un po' tutte le tabelle. Questa cosa io ovviamente già l'ho fatta, adesso non sto qui a cliccare, a passare da un time frame all'altro, mi sposto sulla piattaforma dedicata a questo tipo di progetto. Eh, magari vai direttamente. Devo solo trovarla. Però voglio dire, questo è naturale, soprattutto in un po' di indicatori che è necessario, abbondante storico, chiaramente avendolo installato per la prima volta, lui ha necessità di fare tutti i vari calcoli. Una volta che lo si utilizza già per una mezz'ora, un'ora, questa cosa qua non c'è più bisogno di farla, insomma. Ecco, adesso... Esatto, quindi poi questo, diciamo, vi apparirà questo termometro Forex con tutte le tabelle. sul template, quindi cliccando poi su Vista Indicatori, vedete io sul template ho scritto termometro. Che cos'è questo template? Io semplicemente mi sono salvato questo formato, si può salvare con il formato termometro, quindi poi bisogna scrivere esattamente quello che si è salvato sul formato della MT4, basta scriverlo in modo corretto nelle variabili dell'indicatore termometro e ogni volta che poi clicco mi appare il formato che io ho scelto. Se non impostate il valore del template avrete poi, si aprirà un time frame tipo del genere, quindi vi consiglio poi di crearvi i vostri template e di salvarlo sul termometro, così potrà poi averlo in memoria. Allora, quindi abbiamo spiegato come si installa, spero che sia chiaro, se avete delle domande magari poi le lasciamo nel finale, se sono poi, diciamo, attinenti a quello che sto spiegando, mi fermo un attimo e rispiego dei punti non chiari. Allora, passiamo un po' a decifrare un po' questo indicatore, che è composto, come vedete, da queste tabelle. Ogni tabella racchiude una valuta, quindi abbiamo la valuta euro, valuta dollaro, valuta sterlina, yen e così via. Di ogni valuta, quindi di ogni valuta, viene fatto un confronto con le altre, quindi un incrocio, con il dollaro, sterlina, yen e quindi su un po' su tutte le measure. Da qui viene ricavato un istogramma, vengono ricavati degli istogrammi. Blu vanno a indicare la forza, mentre arancioni vanno a indicare la debolezza. Quindi quando, ad esempio, vedete su euro che abbiamo questi istogrammi blu quasi vicino ai punti massimi della parte bassa della tabella, significa che in questo momento l'euro nei confronti di NZD ha molta forza. Al contrario, invece, attualmente contro il dollaro non ha la forza che può avere con altre valute. da dove ricaviamo questi dati? Salvatore, possiamo dirlo o sei geloso della tua creatura? In sostanza, vabbè, non ci perdiamo molto nei calcoli astrusi che fa l'indicatore. Semplicemente, io vado a mettere una serie di algoritmi che mi debbano dare una contezza di che cosa sta facendo la valuta e la metto in rapporto con le altre valute. Faccio poi una media ponderata di questi valori e esprimerò poi un'evidenza di forza o di debolezza della valuta di incremento. In questo caso, questo termometro che sto vedendo adesso, mi sta dicendo subito, a primo impatto, che il dollaro è molto forte, il dollaro canadese è molto debole, il dollaro neozelandese è molto debole e a prima vista, subito, so, diciamo, come dire, calibro le varie forze, i vari pesi delle varie valute. Questa cosa qui, poi la ho da riassumere, nello specchietto che vedete in basso, valute in evidenza. Vado a fare gli ingroci di queste valute, qualora è un grosso esistere, chiaramente, e vado, come dire, a evidenziare quelle valute che secondo me, insomma, secondo la mia esperienza, meritano maggiore attenzione. Che faccio poi? Di queste valute, di questi bottoni che vedete giù in basso, li vado, se non sono colorati, diciamo così, vuol dire che non c'è molto interesse, cioè nel senso, non sono valute su cui, diciamo così, concentrerei la mia attenzione. La mia attenzione la concentrerei su questi bottoni colorati, lì coloro secondo questa leggenda. Un colore blu indica... Aspetta, aspetta che stanno troppo avanti, aspetta, seguiamo un po' le varie tappe. Quindi, tu in pratica hai fatto una media in base a degli indicatori che possono essere, non so, adesso lo dico così, RSI, stocastico... Stocastico, sì. Ok, hai fatto una media tra questi indicatori, quindi ricavandolo poi appunto, incrociandoli tra loro, tra le varie valute e quindi poi hai ricavato questi dati. Quello che voglio sottolineare, una cosa molto carina, che questo indicatore, se ricordi bene Salvatore, è nato da un'intuizione di un ragazzo che seguiva il forum, prima non c'era ancora Telegram, quindi circa cinque anni fa, chiedendomi appunto se si potesse avere in un unica schermata un indicatore di forza e debolezza tra i vari indicatori. L'idea mi piacque particolarmente, quindi poi, se ti ricordi Salvatore, adesso sono passati un po' di anni, parlando appunto con Salvatore abbiamo creato poi questo, questo, io non ho creato nulla, ho messo solo l'idea, però poi Salvatore è stato molto abile nel creare questo termometro Forex, e quindi dal 2014 in poi abbiamo sempre portato avanti il progetto sul termometro Forex. Visto che comunque... È stato semplicemente imprecciuto dal punto di vista grafico, magari, ecco, quei numeretti che vedete lì sotto, aspetta che vedo uno specchio, ecco, quei numeretti che vedete lì sotto, per esempio Eurodollar 0,41, non è nient'altro che la differenza percentuale rispetto a ieri, cioè Eurodollar sta crescendo rispetto a ieri, di un 0,40%, sono altre informazioni che ho voluto mettere per arricchirlo ulteriormente. Solo una cosa, una considerazione sugli indicatori, sì, è una media, però all'interno io faccio una certa ponderazione tra un indicatore rispetto a un altro, cioè per me è molto più importante un segnale, dico per dire, è molto più importante un segnale dettato dall'RSI piuttosto che dal marcia D o piuttosto che lo stocastico, quindi all'interno poi ho fatto questo insieme di calcoli e l'ho fatto per tutte le valute, ecco, questo giustifica un po' la pesantezza all'inizio, ma dopo una volta lanciato insomma è abbastanza veloce. Puoi continuare, Giuseppe. ne approfitto anche per dirvi appunto siccome poi nascono questi progetti molto interessanti potete iscrivervi alla chat Telegram che abbiamo oltre 550 iscritti e quindi seguiamo i vari progetti non solo questo quindi anche altri e quindi qualora poi abbiate delle idee molto interessanti possiamo costruire comunque dei progetti di trading insieme assolutamente. Quindi abbiamo parlato della tabella quindi va l'istogramma blu significa forza l'istogramma arancione diciamo debolezza appunto poi viene fatta una media e da qui viene ricavato il segnale di forza quando abbiamo la forza contro tutte le valute come in questo caso sul dollaro di debolezza quando le abbiamo contro tutte le valute quindi abbiamo tutti gli istogrammi arancioni come nel caso di NZD oppure situazioni di neutralità dove abbiamo un misto tra diciamo istogrammi blu e arancioni quindi non abbiamo un'indicazione chiara e quindi il termometro segnala una neutralità da questa diciamo indicazione di forza e debolezza poi il termometro forex ci va a segnalare nel campo valuti in evidenza i cross o i cambi che possono essere negoziati secondo appunto l'incrocio tra forza e debolezza in questo caso noi vediamo che abbiamo appunto dollaro forte cad debole nzd debole quindi le unici incroci disponibili secondo questa logica sono usd cad nzd usd quindi vedete che si è sostanzialmente illuminato di viola cosa significa significa che il termometro forex fa un altro tipo di calcolo fa un ulteriore calcolo oltre ovviamente a segnarci il mero incrocio tra forza e debolezza ci dice se questo segnale è il primo segnale che abbiamo di forza quindi verrà indicato con la casella blu quindi master quindi significa che è la prima volta che abbiamo la forza su quella valuta e poi il segnale secondario che appunto di viola che ci dice ok c'è forza però non è la prima volta che abbiamo questo segnale c'è stato già in passato persistente significa che questo segnale viene sempre indicato come forza ma è un segnale che dura ormai da diverso tempo e quindi potrebbe esagire un diciamo un ritracciamento di questa forza quindi in questo caso sarebbe preferibile magari lavorarlo in contrarian questo ovviamente adesso è sul grafico daily quindi mi andrà ad analizzare tutte le diciamo le valute sui grafici daily posso ovviamente switchare su time frame vediamo se c'è qualcosa non andiamo troppo però ad esempio questo per far vedere un potete usarlo anche per assurdo sull'M5 aspettiamo sempre che si aggiorni e vedete mi ha dato dei segnali master ovviamente sul time frame M5 è molto frenetico quindi magari arrivano segnali molto più frequenti quindi su audio usd abbiamo un segnale master quindi io aprendo audio usd vedete che lui mi segnala questa rottura di audi su questa resistenza quindi mi dice che questa resistenza è la prima volta che è stata rotta e quindi qualora volessi appunto assecondare questa questa indicazione del termometro dovrei andare long quindi comprare audi perché è forte vedete audi e vendere usd ovviamente questo è un grafico a 5 minuti quindi poi può cambiare la situazione da un momento all'altro però questo è per farvi capire un po' come funziona in teoria cambierebbe ogni time frame insomma se lo mettete su 5 minuti la situazione verrà aggiornata dopo che chiaramente siano passati 5 minuti adesso credo che anche qui forse è un qualche problema di storico perché vedo che aggiunto altri 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 più che altro credo che sia dovuto al fatto che comunque sull'M5 ci mette un po' per aggiornare tra l'altro sono i 20 e 24 sul broker fra 20 secondi cambia di nuovo la candela e quindi posso e qui vedete aggiornamento tra 8 secondi 7 secondi quindi lo vediamo adesso in diretta si aggiornerà tra un secondo vedete si aggiorna e poi parte il countdown in base al time frame che avete quindi adesso ci segnala aud chf anche qui prima resistenza rotta e qui poi io posso decidere se comprarla questa resistenza o se sono un trader contrarian magari lo vendo decido un po' in base alla mia operatività quindi abbiamo adesso abbiamo visto un po' come funziona un po' tutto il termometro forex adesso mi riconnetto di nuovo alla alla slide ok quindi abbiamo fatto un po' il punto come leggere le indicazioni fornite spero che sia abbastanza chiaro sì ci sarà la registrazione intanto rispondo ok adesso vediamo un po' come lavorarlo in breakout in swing e in contrarian e direi anche il punto l'altro punto è molto collegato quello di lavorarlo attraverso supporti e resistenze ricavati in modo oggettivo quindi magari parto già direttamente con questo allora quello che io lo metto sempre sul time frame sul daily perché tutti i test che ho fatto che ho seguito tutti gli studi didattici sono stati fatti sul daily quindi ho delle statistiche solo sul daily non ho statistiche su un time frame inferiori quindi sul daily ci segnala usd cad e nzd usd quindi abbiamo un segnale secondario significa che quindi c'è una stata una rottura dei supporti delle resistenze ma non è la prima volta che succede quindi ad esempio apriamo nzd usd e vedete c'è stata questa rottura di questa resistenza ma il termometro mi dice che non è la prima perché l'altra c'è stata qui quindi lui ha in memoria questa rottura della resistenza e ci dice ok guarda del supporto in questo caso e ci dice ok è la è la seconda rottura però già c'è stata un'altra quindi fai attenzione e in questo caso si può decidere se lavorarlo in contrarian io ho sostanzialmente tre modalità operative quelle ovviamente le più conosciute in breakout in swing e in contrarian adesso su nzd usd io ho aperto long oggi in diretta ho fatto un intervento sulle fonti e ho motivato l'entrata long su nzd usd questa entrata è stata fatta proprio in virtù del fatto che il termometro forex mi segnala una rottura di questo supporto però siccome non è la prima volta io voglio sfruttare questa rottura di questo supporto e magari operare in modo contrarian quindi non credere alla rottura di questo supporto e e fare esattamente l'opposto quindi in questo caso sono entrato long con stop sotto il minimo e con un diciamo target e questo poi lo vediamo tra poco in questa zona come ricavare in modo oggettivo i supporti e resistenze in modo tale da non sbatterci troppo per cercare i giusti supporti o le giuste resistenze il modo più semplice è quello di scaricare l'indicatore lo vedete qui supporti e resistenze di barri lo trovate ovviamente anche su su google basta appunto cercarlo e sono questi indicatori in sostanza vi segnala le resistenze in rosso poi potete spostarlo cioè potete cambiare i colori come meglio preferite e i supporti in blu quindi avete comunque anche se forse un po' lo sporca il grafico però avete comunque dei supporti e delle resistenze chiare su cui andare a lavorare quindi su nzd usd siccome non è stato il primo segnale la prima rottura potete appunto poi questo dipende sempre la descrizione anche del trader lavorarlo in modo contrarian quindi cercare appunto di un rientro magari verso i supporti che sono stati tutti l'altra modalità operativa con cui si può lavorare ovviamente è il breakout nudo e crudo su questo adesso vediamo un altro esempio che ho portato anche sempre sulle fonti su euro dollaro in breakout adesso il termometro forex non ci segnala più questa questa occasione però su euro dollaro è arrivata forza su intorno a questa candela del 21 agosto qui in questa situazione il termometro ci segnalava forza su euro quindi ci diceva che c'era la possibilità di poter acquistare euro e vendere dollari quindi in breakout semplicemente andare a comprare sul massimo quindi inserire un buy stop in questa zona e cercare appunto poi di andare a colpire le altre resistenze quindi in breakout si può lavorare direttamente con degli ordini pendenti sul massimo o minimo in chiusura daily quindi piazzando un ordine pendente e la modalità breakout può a volte comunque ovviamente non è sempre ci mancherebbe non è sempre performante però quando diciamo c'è un segnale master sul termometro forex ci sono buone possibilità che il breakout prosegua verso la successiva resistenza o supporto quindi in questo caso con l'eurodollaro quando ci segnalava qui la forza su eurodollaro il primo obiettivo poteva essere questa resistenza sul daily la prima resistenza ancora non colpita in aria adesso non la vedo bene però dovrebbe essere in aria 1,16 e 30 quindi si poteva entrare in questa situazione e colpire questa resistenza era blu era acceso blu esatto era master quindi primo segnale quindi prima rottura cerchiamo di lavorarla a favore di breakout le altre quindi il secondario e il persistente magari si può iniziare a pensare a una diciamo a lavorarlo in modo in swing oppure in contrarian l'eurodollaro ovviamente ha segnalato qui nel caso qualcuno non fosse magari riuscito a prendere questo breakout non deve disperarsi perché comunque ci sono altre occasioni di acquisto in base alle indicazioni del termometro forex infatti successivamente il termometro forex ha continuato a segnalare la forza su euro-dollaro diventando poi un segnale secondario quindi sul secondario magari si può lavorare anche in swing come quello che poi ho fatto io perché questo segnale qui io non sono riuscito a prenderlo sono riuscito a prenderla a 1.15.30 lo vediamo dallo storico non mi ricordo bene il prezzo sì 23 agosto quindi qual è stata la logica dell'entrata swing allora qui abbiamo il primo impulso rialzista quindi su questa ondata rialzista il termometro forex ci dice guarda c'è forza su euro se vuoi entrare long puoi entrare long perché il termometro forex in base a questo punto operatività ci dice che è possibile entrare long se io apro il grafico e lo vedo qui magari entrare su un rialzo di 290 pips non mi piace quindi magari posso aspettare un ritracciamento di questa ondata rialzista quindi magari lavorarlo in swing quindi aspettare una barra contrarian andare a indicare dei supporti delle resistenze precise ad esempio questa è la prima ondata rialzista questo è il precedente supporto rotto quindi l'euro dollaro l'ha ripreso e poi è andato a fare proprio il pullback su quel supporto quindi io lì ho piazzato in questo caso un buy limit perché era un supporto su cui si poteva appunto pensare a una ripartenza dell'euro dollaro e quindi lavorarlo in questo modo per andare a prendere poi la terza ondata rialzista giuseppe se trascini l'operazione sul grafico lo trascini fai il drag and drop dell'operazione ti fa vedere proprio dovresti vedere proprio il trade così vedi Natti ecco eccola qua è questa esatto ok tu sei entrato lì quindi hai aspettato un ritracciamento perché mi pare di capire essendo non essendo il primo essendo verso il primo il primo breakout hai aspettato un ritracciamento l'ho lavorato in swing allora qui qual è la questione che ovviamente poi c'è sempre un po' di analisi da fare quello che diciamo è importante è avere l'indicazione principale dal termometro forex dove mi segnala comunque che c'è forza e quindi io poi operare in modo non a occhi chiusi perché adesso magari sarebbe andato comunque lo stesso bene però un conto è riuscire ad entrare qui è un conto puoi entrare qui quindi oltre 115 pips in ritardo quindi magari aspettare un ritracciamento perché sulla prima ondata rialzista poi c'è sempre un ritracciamento e andare a lavorare su dei punti diciamo comunque abbastanza oggettivi quindi l'ultima questo l'ultimo supporto non è che me lo sono inventato cioè c'è qui è stato segnalato quest'ultimo swing io qui ho piazzato semplicemente un buy limit perché il prezzo ho ipotizzato che il prezzo potesse andare a ritestarlo poteva andare anche più giù però comunque seguendo le regole che mi sono imposto sull'operatività swing un buy limit qui in questa zona in questo caso ha pagato poi io sono uscito in questa zona qui a 1.17 perché poi qui il termometro forex ha iniziato a perdere ha iniziato a perdere forza proprio contro il dollaro lo vedete come sul dollaro ha iniziato proprio a perdere forza e quindi su un diciamo un numero tondo come può essere 1.17 magari andare a proteggere l'operazione non è così sbagliato come avere sempre però un rischio rendimento sempre a favore quindi mi ricollego all'altro punto della slide in questo caso allora sempre su euro dollaro l'entrata è stata fatta su questo livello se non abbiamo un chiaro un target sul daily possiamo semplicemente spostarci di time frame e quindi andare a piazzare il take profit sulla prima resistenza che il grafico weekly ci segnala quindi in questo con questo tipo di operatività ho quasi sempre il rischio del reward a mio favore perché entrando qui a 1.15 30 lo stop sotto il minimo di 246 per andare a prenderne era 15 e 30 qui per andare a prendere 290 mi dà sempre quasi sempre il rischio reward a favore poi posso decidere se spostarlo su quest'altra resistenza oppure sulla prima in modo tale che ho sempre un rischio reward ottimale e questo soprattutto per le tecniche di swing e di breakout perché di solito con le tecniche di breakout diciamo lo stop è molto più corposo rispetto a quelle di contraria quindi per questo la maggior parte dei trader preferisce andare a cercarsi di prendere il massimo e il minimo perché in contraria hai sempre uno stop loss molto basso come in questo caso io ad esempio ho un ottimo rischio reward su nzdusd perché ovviamente mi sto andando a cercare il minimo quindi ne perdo 49 per farne 150 questo ovviamente ha i suoi pregi e difetti quindi dobbiamo sempre poi tener conto che in contraria andarsi a cercare magari i minimi come in questo caso se non si ha se non si segue una regola precisa io in questo caso la sto seguendo però se non si segue una regola precisa comunque si rischia di prendere solo stop su stop ma questo segnale che hai fatto contrario era magenta non era bianco persistente magenta esatto persistente esatto persistente purtroppo non so se c'è perché diciamo hai più probabilità sì ovviamente più probabilità però nessuno esclude di fare comunque diciamo un'analisi sul proprio tipo di grafico cioè se te lo trovi su un supporto eh sì sì certo certo dopo una discesa di 864 pips io sinceramente entrare in short non me la sento perché anche dove mi stoppo dovrei stopparmi qui ma queste sono zone laterali dove mi può andare a colpire quindi visto che comunque in questo caso il risk reward è molto a mio favore io ci provo al limite prendo uno stop è amen non è giusto giusto è giustissimo vediamo se NZD CAD ecco questo è persistente NZD CAD su un grafico H1 vedete ci dice sì c'è stata la rottura ma la rottura della prima resistenza è avvenuta circa 45 pips fa quindi in questo caso andare a cercarsi il breakout di questa barra qui sul grafico H1 è molto non è sicuramente diciamo profittevole dal sensato dal punto di vista del risk reward perché entrare qui dovrei stopparmi sull'ultimo minimo sono 92 pips anche se volessi cercarlo la prima resistenza sull'H4 sono 25 pips quindi vedete come entrare adesso mi dà non mi dà un vantaggio poi può anche andarci però non mi dà assolutamente nessun vantaggio dovrei spostarmi forse sul grafico daily per andare a prendere la prima resistenza e non avrei comunque nemmeno il vantaggio perché sarebbe un profit di 70 pips contro uno stop di 90 pips mettere uno stop più stretto non ha senso perché potrebbe comunque sicuramente fare dei ritracciamenti quindi in questo caso e magari la facciamo questa operazione questo è un mondo reale no? sì però ovviamente le sites sono abbastanza ridicole quindi sempre ovviamente a scopo didattico quindi io decido di entrare adesso anche se però su scad ci sono i tassi giusto ah questo non non lo so allora su nzdcad quindi io decido di lavorarlo in contrarian per andarmi a prendere il diciamo questa zona qui dove potrebbe andare poi di nuovo a ritestare quindi questa questa zona come stop potrei mettermi sull'h4 quindi sul time frame superiore e avere comunque un buon risk reward perché ne rischio 34 per prenderne circa 38 diciamo che comunque siamo quasi in un rapporto 1 a 1 non è malvagio visto che comunque lo stop me lo vado a prendere sull'h4 spero sia chiara come diciamo modalità operativa se avete domande io passo se non avete domande io passo ad altre all'ultima ah una cosa che volevamo far vedere è che ovviamente non bisogna solo magari focalizzarsi solo su quelle le valute in evidenza illuminate perché potete lavorare ovviamente anche sulle altre quindi ad esempio se abbiamo un histogramma che ci segnala forza su nzd eur potete anche lavorare su un discorso inverso nel senso che ad esempio su euro nzd io vedo che su nzd mi sta segnalando forza nzd è debole contro tutte le valute la domanda che posso farmi è ma quando può durare questa debolezza di nzd potrei cercare di iniziare a costruire delle operazioni sempre in contrarian quindi alla forza per far sì che questo questa situazione di squilibrio ritorni sulla normalità quindi nzd non sarà per sempre forte contro euro come qui nzd non sarà sempre debole contro tutte le valute quindi magari su nzd dove ho un histogramma molto forte quindi mi mi dà una forza mi dice di comprare euro contro nzd posso fare esattamente il contrario il contrario quindi andare ad aprirmi il grafico e vedere come sono messo graficamente quindi euro nzd vedete come su euro nzd siamo in una fase di trend molto rialzista posso decidere e anche questa è un'operazione che magari facciamo sempre a scopo didattico decidere di iniziare a vendere euro nzd per far sì che questa tabella che magari dove adesso ho nzd debole magari nei prossimi giorni mi inizia a dare forza quindi se mi dà forza su nzd su euro e usd sono molto deboli questa situazione magari non durerà in eterno quindi posso iniziare a costruirmi delle situazioni piramidali per andare a colpire non so ho questo precedente resistenza rotta che adesso fa da supporto oppure se voglio essere più ambizioso andarmi a colpire queste zone qui di supporto quindi giocare un po' con i supporti e le resistenze come come stop visto che comunque siamo in una in un'app trend in questo caso si potrebbe optare per andare a mettere uno stop di protezione su livelli molto alti in modo tale che mi sto costruendo una situazione piramidale però non posso mettermi uno stop troppo stretto adesso ma queste poi sono consigli che operativi che uno può seguire o meno però se nel caso dovesse adesso andare giù e farmi quindi un nuovo massimo quindi darmi una nuova resistenza in questa zona qui quindi confermarmi questo livello e io sono entrato bene quindi l'abbasseresti poi lo stop esatto quindi se mi trovo in questa situazione qui adesso diciamo che mi metto uno stop qui chiamavano antirovina sui massimi storici ma quindi seguo questa posizione giorno dopo giorno se domani mi dà una resistenza in questa zona posso iniziare a spostarmi posso spostare lo stop e quindi renderlo più meno rischioso dal punto di vista appunto del del risk reward quindi puntare anche queste situazioni quindi come vedete con il termometro forex si può giocare in modo fare training in modo con diverse tipo di strategie bisogna ovviamente prenderci un po' la mano capire un po' quali sono i vari scenari ovviamente non fidarsi sempre ciecamente delle situazioni quindi analizzare sempre graficamente il tutto però appunto si può sfruttare sia in breakout in swing che in contrarian il vantaggio è proprio diciamo vedere in un'unica schermata quindi non centinaia di cose in un'unica schermata un colpo d'occhio intuitivo è chiaramente poi con l'utilizzo dei bottoni essere immediatamente operativi per il trading ma a colpo d'occhio a vista d'occhio non a caso ho messo questi colori abbastanza evidenti proprio per perché a colpo d'occhio mi deve dare subito il quadro della situazione ed essere immediatamente operativo sul mercato e chiaramente di tecniche ce ne sono poi moltissime come c'è il breakout lo swing anche questo contrario non è male però da chi mi dice la valuta su cui tradare ecco basta guardare solo questo termometro forex poi con un po' di tempo e passare del tempo esatto una cosa è andarsi a diciamo a fare lo screener su ogni singola valuta e quindi andarsela a cercare e quindi fare tutta un'analisi in questo caso invece io mi vado già so quali sono le valute forti quelle deboli su cui andare magari a lavorare bene oppure in breakout oppure in contrarian un'altra indicazione che si può dare è sicuramente vedere il prezzo se è vicino a una media mobile oppure lontano in questo modo se la trovi è una media mobile sopra sopra ce la trovi sopra eccola qua un'altra cosa è lavorarla sulla media mobile perché quando ci segnala poi qui la rottura qui il termometro forex questo è un segnale da termometro forex ci segnala la rottura di questa resistenza io qui sicuramente entro long piuttosto che contraria perché i prezzi comunque sono già compressi vicino alla media quindi se il breakout deve partire il termometro forex mi dà la forza su questo segnale quindi su questa rottura della resistenza e qui io me la gioco in buy stop per andarmi a prendere poi le prime resistenze quindi posso spostarmi sempre sul grafico weekly o se già ho una buona un buon risk reward da qui direttamente sul grafico daily 388 vedete ho quasi un rapporto di 1 a 1 posso andare a entrare in breakout per andarmi a prendere queste resistenze quindi diciamo che in breakout si gioca molto sul discorso che di trovare un buon risk reward quindi il trucco che utilizzo io nella selezione dei breakout se si trovano vicino a una media mobile e quindi il termometro forex mi ha segnalato forza sono più propenso ad entrare in breakout piuttosto che in contrarian se invece come adesso mi segnala magari un segnale persistente mi trovo anche molto lontano dalla media mobile magari sono molto invece più propenso ad entrare in contrarian stessa cosa per lo swing se il breakout è stato molto violento quindi magari in 3-4 barre mi ha fatto 400-500 pips non entro ad occhi chiusi con un buy stop ma aspetto dei ritracciamenti e quindi lo lavoro con con lo swing pattern che poi lo spiegheremo nei prossimi webinar chi segue in chat comunque già sa di che cosa sto parlando quindi vado poi a cercarlo in quel modo e quindi in base a queste semplici analisi si riesce comunque ad avere un quadro completo allora adesso passiamo alle statistiche allora se avete domande fatemene così poi io le lascio per il finale allora 2014 partiamo ci sono passati 4 4 4 allora questo è diciamo è stato fatto il primo esperimento sul termometro forex in modalità breakout quindi i primi due anni l'abbiamo ho lavorato solo in modalità breakout quindi ha dato comunque a parte i primi due mesi di diciamo rodaggio della tecnica poi è stato sempre positivo questi sono segnali che io faccio con cerco di fare in maniera costante per avere aggiornate le statistiche però anche un po' in base ai miei impegni non riesco ad essere sempre puntuale e quindi dal diciamo che il 2014 a parte il primo mese di giugno poi ha avuto sempre un buon rendimento questi non sono percentuali ma sono pips stessa cosa il 2015 ha avuto un buon inizio di gennaio gennaio di solito noto che è un un mese molto dove il breakout viene pagato molto rispetto agli altri mesi è avuto conferma in questa statistica e quindi poi nei vari mesi successivi il termometro forex è stato sempre positivo a parte poi il mese di agosto che è un mese molto diciamo frenetico è molto volatile quindi magari in breakout non è proprio ottimale lavorarlo e per poi il 2016 qui non non ce l'ho ce l'ho sull'altro con un buon rischio rovina quindi per bruciare questo conto dovrei prendere 455 stop di fila in base al rischio che corro su questo su questo su questo conto un buon profit factor direi anche una discreta aspettativa di per trade quindi vediamo che diciamo il termometro forex in questo caso nel 2014 2015 ha lavorato bene in breakout poi 2016 ok il 2016 sempre si è confermato gennaio profittevole e quindi ha continuato comunque questa buona performance qui ho iniziato anche verso fine 2016 a inserire anche tecniche di contrarian e qui vabbè il profit factor è molto astronomico ma sì ma credo che sia per il fatto che comunque sono stati fatti solo 44 trade ovviamente sul grafico daily non c'è un 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 c'è un segnale al giorno poi dipende anche un po' dal da quanto uno ci sta dietro però comunque ha avuto anche una buona aspettativa un ottimo rischio rovina qui superiore all'altro intorno ai 1500 trade quindi molto solido poi l'altro beh questo è solo il time frame daily giusto questo che stai dicendo ok sono monitoraggi statistici che per vedere un po' come va una strategia che nasce poi nasce da un'idea poi si sviluppa man mano è importante comunque avere delle statistiche cercare di di essere costanti il più possibili allora quindi poi diciamo che da due anni a questa parte l'idea di farlo lavorare sia in contraria che in tendenza ha preso più piede è una cosa molto interessante da vedere è in modalità trend allora 2017 parte molto bene il termometro forex mettiamo in pips in modalità breakout quindi marzo aprile si fa i suoi mesi poi clamorosamente da dicembre 2017 al per tutta diciamo anche i primi mesi del 2018 è andato in perdita quindi facendolo lavorare solo in in breakout avremo comunque si chiuso il diciamo il conto in positivo però ovviamente avremo perso delle possibilità di lavorare comunque incontrare e quindi di andare ad avere delle performance quindi diciamo dei guadagni anche in modo contrarian quindi diciamo che queste perdite che si sono avute nel finale dell'inizio della fine del 2017 inizio del 2018 poi si è ripreso un po' a marzo riperso di nuovo ad aprile vedete era arrivato al 13% di performance su un conto da mille comunque il 13% ogni operazione viene aperta da 001 quindi con i micro lotti quindi sicuramente aveva era arrivato un buon punto come performance anche come rischio rovina dopo aveva mi ricordo intorno ai 300 ai 300 trade per andare poi clamorosamente verso i inferiori ai 100 e quindi allarmare molto questa strategia quando io vedo che una strategia va sotto i 100 trade di rischio rovina è bene fermarsi e magari rivedere degli incressi perché comunque si rischia di andare poi in perdita diciamo che il drawdown sull'equity a parte l'inizio di marzo poi il drawdown sull'equity su questo capitale non c'è mai stato e quindi questa modalità di trend following è stata in qualche modo diciamo arginata dalla modalità contrarian quindi quella che ho fatto vedere poco fa la stessa logica e la modalità contrarian ha perso magari nei primi mesi del 2017 però nonostante le strategie fossero completamente opposte si è riusciti comunque ad essere profittevoli sia sull'in modo in trend following che in contrarian perché questo perché ovviamente le tempistiche sono diverse come possono essere i target o gli stop loss quindi non è detto che far lavorare sia in trend following che in contrarian con un'unica strategia significa sostanzialmente essere in equilibrio anzi poi si può guadagnare sia in un modo che nell'altro come si può ovviamente perdere sia in un modo che nell'altro però in questo modo io riesco sono riuscito a bilanciare molto diciamo il termometro forex e infatti poi nei mesi in cui poi c'è stata la perdita nel 2018 è stata un po' compensata dal termometro dalla modalità contrarian quindi poi qual è stato l'ulteriore upgrade che ho fatto è stato quello di unificare i conti quindi poi questo vedete con un processo molto lungo di studio per arrivare poi alla quadra del cerchio non è detto che ci sia arrivato però secondo me mettere in un unico conto le varie strategie a farle lavorare sia in trend following che in contrarian può essere un buon diciamo un po' un compromesso cosa che ho fatto su quest'altro conto quindi sulle statistiche del 2018 iniziano da marzo a parte il primo mese chiuso leggera perdita poi il resto sono state chiuse in guadagno e quindi attualmente questo è il conto di riferimento che con questo conto qui che sto facendo vedere non lo trovo mai volevo farlo io una domanda che è questo qui quindi e quindi lavorarlo sia in modo contrario anche in trend following che in swing al momento ho un ottimo rischio rovina perché siamo sopra ai 300 pips 300 trade scusate un'ottima aspettativa per trade perché siamo sui 30 sui 30 pips e anche un buon profit factor quindi sostanzialmente queste diciamo sono le statistiche che mi danno comunque un po' una diciamo mi stanno dicendo che questa strategia ha un suo perché anche perché abbiamo uno storico molto molto lungo e quindi diciamo che abbiamo vissuto le varie dinamiche di mercato vai salvatore vai con la domanda no volevo solo chiedere vabbè chiaramente hai operato sulle diverse valuscole diverse opportunità perché cercavo di darmi una spiegazione come mai la logica breakout da quest'anno fondamentalmente pare non dare i risultati speraccia volevo capire si è cambiato il discorso no sicuramente è stato dovuto al fatto che non ho lavorato sempre in breakout perché ovviamente seguendo i vari i vari progetti e poi anche comunque lavorando per TIC1000 non è che posso non sono sempre vicino al monitor per magari lavorare tutti i segnali quelli che ho scelto quelle che ho scelto sono si sono risultati comunque perdenti vediamo nello storico era giusto la mia curiosità per capire nello storico vediamo che sui cross contro sterlina lavora molto bene però GPB Yen qui ha perso GPB Audi ha lavorato bene Audi Yen diciamo contro lo Yen perde in breakout euro-dollaro in guadagno ma c'è solo un'operazione sì quindi sostanzialmente diciamo è stato dovuto magari vediamo l'history questo sell su GPB pesato con di 382 pips questo 147 questo addirittura 596 quindi diciamo che la modalità breakout il limite è proprio quello di avere degli stop molto larghi e quindi bisogna comunque cercare di entrare solo in situazioni dove abbiamo un risk reward favorevole ok allora adesso se avete domande fatele così così vediamo di chiudere il webinar e vi diciamo come averlo allora noi abbiamo chiuso una come Tickmill ho chiuso una partnership con Salvatore quindi tutti gli indicatori gli expert che poi presenteremo su questi webinar verranno dati in modo gratuito a tutti i clienti di Tickmill quindi chi ha un conto reale con Tickmill può avere il termometro forex non mi interessa vedere quanto volume fate l'importante è che avete un conto con Tickmill e poi se volete anche il 5% di sconto sulla commissione ma non siete obbligati ovviamente a farlo per i conti però c'è uno sconto commissionale del 5% potete ovviamente agganciarvi all'IB di Salvatore perché è un nostro partner e quindi scrivendo direttamente a lui adesso lo scrivo in una chat tu puoi scriverlo anche tu Salvatore perché sei relatore allora scriverò quando non per i dati non 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 perché sono le domande un attimo solo che trovo il campo eccolo qua non lo scrivo in chat e poi per i conti demo invece potete utilizzarlo senza diciamo sul terremometro forex ci sono tre mesi giusto sì sì lascio ok se i conti demo anche se sono con altri broker potete utilizzarlo quindi quindi ve lo diamo tranquillamente l'unica cosa non dovete contattare me per gli indicatori ma Salvatore che vi ha girato la chat poi seguiteci ovviamente sulla sulla chat condivisa quella che vi ho dato prima su working forex perché è lì che trovate anche Salvatore quindi poi per qualsiasi cosa potete ovviamente inerente all'indicatore potete chiedere direttamente a lui e quindi poi lui vi darà il link per diciamo condivide per scaricare il termometro forex e poi tutti gli altri lavori che faremo insieme per ogni lavoro noi cercheremo comunque sempre di fare un incontro didattico come adesso in modo tale da spiegarlo in maniera precisa e poi da lì ovviamente potete usufruirne senza costi aggiuntivi o altro ok Salvatore volevi aggiungere qualcosa? ma credo che è stato detto tutto penso penso di no perché è stato detto è stato detto tutto ok perfetto allora la registrazione si ci sarà quindi verrà inviata via email o comunque seguite su youtube o su facebook comunque sempre sulla chat ci sono c'è disponibile sicuramente ci sarà disponibile la registrazione perfetto quindi abbiamo sforato l'ora siamo stati spero di essere stato preciso quindi vi do appuntamento al prossimo webinar che sarà il prossimo mercoledì chi si è iscritto non deve iscriversi necessariamente perché già c'è l'iscrizione e ci sarà un altro trader con me quindi Salvatore per il prossimo webinar non ci sarai tu ma ci sarà un altro trader che ci spiegherà un'altra strategia molto interessante grazie a tutti per aver ascoltato questo webinar e vi do appuntamento al prossimo webinar mercoledì grazie a tutti buona serata grazie a tutti